In un'epoca di cui non si ha memoria, c'era soltanto un luogo. Esso cominciò a crescere, e crescendo i suoi poteri svilupparono coscienza ed ego, e si separarono, più luce ed oscurità. Sin da allora, le due forze si sono sempre date battaglia, per affermare ciascuno la propria superiorità sull'altre, in una guerra senza fine. Brava, non credevo avresti resistito così tanto. Non smetterò di combattere finché Len non sarà libero. Il Len che conosci non esiste più. Silenzio, è giunta l'ora di completare il rituale. Antichi dei del passaggio, ascoltate la mia precomia, Concedetemi, e darò nuova vita al vostro araldo a caldo a caldo. Il rituale è quasi sincretto. Il nostro araldo si desterà dal suo sonno, e noi li prevediamo. Sono al vostro servizio. Ditemi di cosa avete bisogno. Fa proficato il contributo del file che non è più in un'altra volta. Sono al vostro e il nostro araldo sarà più senza Diazio. Uccidila. Star a fa. Len, stagliati. È inutile. Non posso dire. Il tuo sa, nella nuova vita. No, Ned! Rispegnati, ti prendi, Ned! Non puoi sali! Battiti! Lei nudi! Lui ormai è la rara! No, diverti! Il tuo nome è Akamana, e io che ti ho donato nuova vita, sono il tuo padrone. Cosa? Io mi chiamo lei, e non appartengo a nessuno! La rinascita dell'Araldo sarà la tua fine! Len! Ned! Len! Ormai è giunta la mia ora. No! Ma almeno sono riuscita a vederti un'ultima volta. No! Ned! Applausi per Limace 2!